Proseguono i lavori di ricostruzione in centro all'Aquila, la città che ha sempre più cantiere e adesso si sta montando una grande gru perché si eseguiranno dei lavori su un aggregato importante in un tratto di via Garibaldi e quindi il comune dell'Aquila tramite un'apposita ordinanza di polizia municipale ha deciso di chiudere un tratto della via per due giorni per consentire appunto i lavori di montaggio della gru fatti in assoluta sicurezza sia per i pedoni che per i veicoli e c'è tutto un percorso però nella parte di strada aperta che è disciplinato e regolato dai semafori. Viabilità in continuo fermento e cambiamento all'Aquila, i noti disagi che riguardano Piazza Duomo nella quale sono in corso i lavori di riqualificazione, si aggiungono oggi e domani quelli in una via importante del centro storico come via Garibaldi dove pure si sono ricollocate molte attività commerciali di prossimità. Il montaggio di una grossa gru per eseguire lavori in un aggregato importante ha fatto optare per la chiusura per far sì che i lavori possano svolgersi in sicurezza, non potranno passare né macchine né pedoni in un tratto ovviamente sono previsti dei percorsi per i residenti, l'area interessata è un'area nevralgica della città anche molto frequentata ma il comune anche qui chiede collaborazione in questi due giorni dal momento che sono sempre lavori orientati alla rinascita dell'Aquila la chiusura riguarda un tratto di strada, per quella aperta la circolazione è regolata da semafori certo è che oggi muoversi in centro è sempre più complicato, anche nel corso stretto si tratta di un vero e proprio percorso ad ostacoli per raggiungere anche il corso principale già ripavimentato, perché lì si sta facendo la ripavimentazione e i disagi ci sono e come la piazza off limits in una sua parte con spazi per i parcheggi ridotti appunto, il corso stretto per la pavimentazione, ora via Garibaldi ma a breve partiranno anche altri cantieri perché i lavori del PNRR, i progetti sono tanti ovviamente e andranno fatti nei tempi previsti